Radio Radicale, siamo col senatore Indrizzi del Movimento 5 Stelle per parlare dell'incarico al professor Giuseppe Conte. Allora, da parte vostra c'è molta, immagino, soddisfazione, anche se molto del lavoro dovrà essere fatto. Oggi mi sembra che i mercati abbiano premiato l'Italia. Se potesse riassumere queste ultime 24 ore, cosa direbbe? Beh, intanto che non erano puniti gli italiani dai mercati prima, non sono premiati adesso, dobbiamo imparare a tenere svincolate le fluttuazioni che ci possono essere in borsa da quelle che sono le vicende politiche. Se si vuole vedere un nesso, io lo vedrei più sul fatto che ci fosse indeterminatezza sul nome, non certo sull'operazione complessiva che già dall'esito delle elezioni si è venuta a materializzare come la più probabile, più fisiologica. Ecco, il professor Conte ha detto che si batterà per la pace fiscale e per ridurre i costi della politica. Mi sembra che siano, diciamo, degli obiettivi che vi eravate posti. Sì, noi volevamo già nel programma elettorale cambiare il rapporto Stato-Cittadino. L'onere della prova, se ci sono fenomeni di evasione e quant'altro, sono a carico dell'amministrazione pubblica, dello Stato. Non è certo il cittadino a dover dimostrare di essere innocente. I metodi di analisi indiretta portano a presumere situazioni e a scaricare sull'imprenditore o sul cittadino il costo di una difesa. Ed è anche brutto sul piano proprio così del rapporto, della percezione che è il cittadino di essere inquisito. Non sono peraltro metodi efficaci. È molto più efficace un rapporto collaborativo che porta le aziende, quando sono soprattutto aziende sane, magari strette dalla morsa creditizia, a definire in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate dei percorsi per uscire dalla situazione. Ma se noi andiamo a imporre un'esazione coatta, violenta, a volte anche ingiustificata, perché abbiamo visto cartelle pazze arrivare, e facciamo così morire le aziende, facciamo anche un danno all'erario, perché distruggiamo il gettito futuro. Le è piaciuto il termine difensore civico dei cittadini e anche la risposta di Renzi, del Partito Democratico, che si costituisce da parte civile. Come ha trovato questa botta e risposta? Il Partito Democratico dovrebbe costituirsi, punto. Per quanto riguarda il difensore civico, forse non è il presidente incaricato Conte, l'unico difensore civico, ma proprio tutto un movimento che sta con lui a proporsi in questa veste da anni. Per cui, diciamo, è un'immagine ben tagliata sulla persona, sul ruolo, e che rappresenta però un movimento ampio. Si aspetta lo scioglimento della riserva nei prossimi giorni? Pensa che il contatto con i partiti sarà più difficile del previsto? Senza fare valutazioni, entrare nel merito, che impressioni ha? Io credo che il Presidente della Repubblica non voglia e non possa entrare sul piano politico nella definizione della squadra di ministri. Lui ha un ruolo senz'altro di garanzia che sta svolgendo al momento in maniera, direi, buona per le difficoltà che vi sono. Sta ora però alla natura delle cose che sia conferito l'incarico e che ci sia da parte di questa maggioranza che si è proposta la libertà politica di portare a compimento la volontà emersa, la volontà dei cittadini, emersa con il voto. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Senatore Indrizzi del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, arrivederci.